Erano nascosti, è sempre dentro all'orto, in silenzio andiamo, vi faccio vedere la strada che lei fece quella mattina, uscendo da lì perché andava, come lasciato scritto a qualche ragazzo, lei andava qui alla casa, andava a portare un po' di briciole a due bulcini che cercava di crescere nella speranza che poi si facessero le uova e potessero mangiare. E io ho molti racconti di Enrica, vengo nelle scuole e ve lo racconto, ci mettiamo d'accordo con la professoressa, non vi dico di più, dopo vi porto a vedere dove era nascosta, non soltanto Enrica, ma quello che chiederò, se mi aiuta la Presidente della Comunità e i familiari, di mettere una piada d'inciampo per Emma, che non è tornata. Proprio qui, perché Fatalità, questa piazza si chiama Ricordo da Montecroce e per me qui c'è un messaggio importantissimo, Ricordo da Montecroce era un missionario in Palestina, perciò noi dobbiamo parlare della storia, ma della storia vera, quella che è stata e quella che è adesso. Noi dobbiamo trasmettere pace, la garbarella, prima di chiamarsi garbarella, si chiamava donna della pace. Grazie. 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 Grazie.